Musica Salve a tutti amici benvenuti in questo nuovo video di War Tile Andiamo alla prossima missione Tile Wars Horn Possiamo portarci ben tre unità Eccolo qui Begin Mappa innevata Dobbiamo arrivare nelle caverne profonde Cercare la voce degli dei Ok, e allora, da dove iniziamo? Questo è l'obiettivo principale E allora io direi appunto di salire su Conquistare prima A questo punto, ok, quindi si sale Arrivano i rinforzi E allora Per ovviare questo problema Ok ragazzi, vai Così siamo tre contro uno Circondiamolo Ok 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 Prima carta utilizzata ragazzi Ok 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 Scendiamo con il nostro vichingo Andiamo a vedere se ci è rimasto qualcuno dentro Ok Non c'è nessuno Ok Ok Possiamo andare E allora Direi di salire Con i nostri eroi Ci ha beccato l'arciere E dai Abbiamo preso il controllo Abbiamo un bel po' di puntini L'abbiamo fatto Ora bisogna decidere ragazzi Quale strada Prendere Ne ho ottenuto un po' d'oro E allora abbiamo O qui a destra Così Andiamo a eliminare gli arcieri Corso Andiamo Bello Vieni qui Dai Madonna Eh dai Bello tosto sto tizio E allora Questa parte Ok 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 Un elmo Un elmo Adesso noi facciamo Il percorso all'inverso Anche con una sola pedina Risaliamo Così Spendiamo su Adesso non ci resta che Decidero se andare in questa cava qui O andare di qui Quindi Io direi Abbiamo trovato soltanto un anello Abbiamo trovato soltanto un anello Vediamo se riusciamo a trovare gli altri Ok Tutti qui Vi aspetto dai Trappola Ha beccato la trappola Così Dai Così vi voglio dai Colpite 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 Spaccolo in due Un altro colpo E vai Si difende bene Ok Ok Non per molto E allora Abbiamo scrigno Un altro elmo Andiamo a recuperare l'anello Ok Sono due gli anelli recuperati E allora Che facciamo Attacchiamo il nemico alle spalle Direi proprio di sì Al buio Speriamo di non boccarci le frecce Speriamo di non boccarci le frecce Si è beccato pure la 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 Cappola Dai Così vi voglio Speriamo le Ok 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 Ristabiliamo un po' di ordine Ok 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 O Ok 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 No Non possiamo recuperare l'aria qui, forse adesso si, perfetto, scendi, abbiamo guadagnato anche in salute, perché l'aria liquida ripristina la salute di tutti i membri, azioniamo il ponte, dai chi viene? Mi manca l'ultimo anello, dai che ti aspetto, io ti piace una bella trappola qui, vediamo se fa un passo, ok bravissimo, sai che sei morto, ok, sono 8 punti, dai che te sei coraggioso, dai vieni qui, vieni qui, coraggiosissimo, ora avanza e ti becchiremo alzate da 3 contemporaneamente, ancora ce ne sono nemici, sarà bella tosta, questa è bella tosta come battaglia, allora, ancora è pieno, pieno zeppo, allora, strategia, cerchiamo di evitare le frecce degli altri pure, come l'ho detto, sali su, ok, punto di controllo raggiunto, mi serve la chiave, la chiave penso che sia qui all'interno, recuperiamo anche l'ultimo anello, guest completata, vediamo cosa ci dà, niente, non ci dà neanche dei battle point, bravi, ok. forza ragazzi dai che stai per morire ok, perfetto, ecco la chiave, abilità individuali, immobilità. Salute. Oh sì. Eh dai! Ok. Ok. Recuperiamo la chiave. Perfetto. Chiave recuperata, qui non c'è nulla. Neanche un piccolo tesoro, non c'è niente. Ok, possiamo uscire. Abbiamo recuperato la chiave, ovviamente. Ragazzi. Porca paletta. Dice una volta. Si. Dai Così dai Dai ragazzi Dai che ce la facciamo Ok Alla grande ragazzi Alla grande Vai a suonare il corno Perfetto Obiettivo primario Completato prima quello secondario Degli anelli Una grandissima vittoria in questa missione Livello completato Abbiamo eliminato tutti i 26 avversari Abbiamo fatto una grande battaglia Ragazzi qui si conclude il video Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like per dimostrarlo Commentate qui sotto Se non siete ancora iscritti al canale Iscrivetevi E condividete questo video con tutti Ci vediamo al prossimo episodio Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti